Aquila nera è il nome che avevo dato al nostro centro dove divulghiamo l'insegnamento della monta indiana ovvero di come i nativi d'america delle grandi pianure siu si relazionavano con i cavalli senza nessun mezzo di coercizione psicofisica in totale libertà per poterli cavalcare senza morso, meredini e senza sella